Ogni giorno, ogni ora ci mostra che siamo un nulla e con qualche nuovo argomento ricorda a noi dimentichi la nostra caducità e mentre concepiamo progetti come se fossimo eterni ci costringe a guardare alla morte. Chiedi che cosa significhi questa premessa? Tu conosci Cornelio Senecione, cavaliere romano illustre e cortese. Da un'umile origine era arrivato in alto, destinato a ulteriori e facili successi. L'inizio di una carriera è più difficile che il suo sviluppo. Anche il denaro tarda molto ad arrivare se uno è povero. Alla povertà si rimane attaccati finché non si riesce a tirarsene fuori. Senecione ormai mirava ad arricchirsi e a questo lo portavano due qualità validissime. La capacità di procurarsi il denaro e quella di conservarlo. Sarebbe bastata una sola delle due a renderlo ricco. Quest'uomo molto frugale che aveva cura tanto del patrimonio quanto del suo corpo mi aveva fatto visita al mattino come d'abitudine e aveva poi assistito per l'intera giornata fino a notte un amico gravemente malato che giaceva a letto senza speranza di guarigione. Dopo aver cenato allegramente, colpito da un male fulminante, l'angina, a stento sopravvisse fino all'alba rantolando con le vie respiratorie bloccate. È morto dunque pochissime ore dopo aver svolto tutte le attività proprie di un individuo sano e in forze. Quell'uomo che faceva girare il denaro per terra e per mare, che aveva partecipato anche a pubblici appalti e non aveva tralasciato nessun tipo di guadagno, proprio quando le cose si mettevano bene, proprio quando il denaro arrivava in abbondanza è scomparso.